La partecipazione della donna alla cucina di Selvaggina è storicamente provata, un po' per il ruolo all'interno del focolare domestico, anche se a onor del vero in epoche passate era più per condizionamento culturale anziché per scelta. Oggi la donna, consapevole delle proprie scelte, si approccia alla cucina della carne di Selvaggina con la volontà veramente di riscoprire una tradizione passata adattandola a quelle che sono le nuove conoscenze moderne. Primo e sicuramente più pressante esempio sono le nuove frontiere normative e scientifiche relative al consumo di carne di Selvaggina. Pensiamo che grandi consumatori di Selvaggina sono stati i romani. Se riproponessimo oggi la tradizione romana fedele della loro cucina avremmo dei sapori per noi completamente inconcepibili, delle pietanze immangiabili, perché comunque le tecniche di conservazione e di frullatura delle carni allora erano inadeguate e quindi più che alla frullatura si arrivava spesso a una putrefazione della carne. Ecco perché il diffondersi di una grande cultura e commercio di spezie, nella Roma antica avevano un valore economico altissimo, ci sono state anche molte guerre dovute all'egemonia del commercio delle spezie, ecco tutte le salse, il famosissimo garum che oggi sarebbe assolutamente immangiabile, c'è tutta una serie di accorgimenti che servivano fondamentalmente per coprire i sapori della carne che non era correttamente conservata. Ma nel periodo di oggi, cioè oggi che tutti quanti hanno poco tempo per cucinare, insomma c'è un po' questo pregiudizio che cucinare Selvaggina significa dover avere per forza tantissimo tempo, è così? Sì, no, proprio perché oggi le nuove conoscenze scientifiche, aperte e favorite anche dalle normative comunitarie che stiamo ricevendo in Italia, quelle sul commercio della carne di Selvaggina da parte del cacciatore che sarà anche un cacciatore formato e che si approccerà al trattamento genico-sanitario della carne e la sua manipolazione in maniera più corretta e consapevole. Quindi la maggior parte delle problematiche legate alla consumazione e alla cottura sono dovute a una cattiva frullatura della carne. La frullatura, in termini molto brevi, è quel processo biochimico, quel processo di trasformazione biochimica del contenuto ematico, di zucchero ematico nelle masse muscolari, il cosiddetto glicogeno, che ad animale morto sviluppa un'acidità che combatte la formazione dei batteri, quindi aggredisce le fibre proteiche delle masse muscolari e permette alla carne di diventare tenere e sapida. Capirete che se l'approccio del cacciatore è corretto, parliamo ad esempio di un grosso ungulato, attraverso l'immediato dissanguamento, eviscerazione e raffreddamento della carne, questa avrà le condizioni per essere frullata al meglio, per diventare tenere e sapida. Queste sono le condizioni per cui determinati tagli si prestano ad essere cucinati velocemente. Per velocemente quanto? Per velocemente intendo in un arco dai 3 ai 10-15 minuti, cioè preparazioni velocissime, paragonabili a quelle che possiamo applicare ai moderni tagli di vitello che possiamo acquistare nei supermercati, con la differenza che forse in pochi sanno la carne di selvaggina è magrissima, è ricca di ferro ed è ovviamente ha una derivazione in termini di sicurezza alimentare maggiore rispetto ad allevamenti di cui comunque per quanto oggi ci sia una filiera più consapevole non sempre sono conosciuti. Ce la dà una ricetta al volo di quelle proprio brevissime da due minuti? Una ricetta al volo brevissime da due minuti possono essere dei semplicissimi straccetti fatti all'aceto balsamico come si fanno normalmente con il vitello, quindi un filo di olio, degli straccetti quindi delle fettine molto fini tagliate o dal filetto o anche dalla parte della coscia, leggermente passate al batticarne avendo l'accortezza di frapporre un foglio di carta da forno per non far spirulare la carne, saltati mezzo minuto da una parte e dall'altra con sale e pepe, sfumati di aceto balsamico e serviti su un letto di rucola e scaglie di parmigiano. Grazie Grazie